Noi bambini saremo alla convocazione del rinnovamento, con le nostre famiglie per una grande festa. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Due studenti saremo alla convocazione del rinnovamento e non siamo preoccupati per le sorti della scuola. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Anche noi giovani saremo alla convocazione del rinnovamento e non dubitiamo del futuro che ci aspetta. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi fidanzati saremo alla convocazione del rinnovamento e non abbiamo paura di sposarci nel Signore. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi sposi e genitori saremo alla convocazione del rinnovamento e crediamo che Gesù è il Signore di allo famiglia. Vieni con noi, vieni Spirito Santo! Noi anziani saremo alla convocazione del rinnovamento e ridiciamo il nostro sia la vita. Vieni anche tu, vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Anche noi sacerdoti e religiosi saremo alla convocazione del rinnovamento e vi benediciamo di cuore, con amore. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi ammalati saremo alla convocazione del rinnovamento e preghiamo con fede che venga la misericordia del Padre. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi persone sole saremo alla convocazione del rinnovamento e godiamo del dono della grande comunione. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Saremo alla convocazione del rinnovamento e invocheremo una nuova effusione. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi disoccupati e inoccupati saremo alla convocazione del rinnovamento e ringrazieremo Dio perché non abbandona. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi animatori dei gruppi del rinnovamento saremo alla convocazione e serviremo con gioia, serviremo con affetto tutti i fratelli, tutte le sorelle. Vieni, vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Noi volontari del rinnovamento saremo alla convocazione e organizzeremo ogni cosa nel rispetto di tutte le disposizioni. Vieni anche tu! Vieni Spirito Santo! I responsabili dei cenacoli, dei gruppi e delle comunità del rinnovamento saremo alla convocazione e ci prenderemo cura di accogliere coloro che parteciperanno. Vieni anche tu, vieni Spirito Santo! Vieni Spirito Santo! Vieni Spirito Santo! Vieni Spirito Santo! Grazie a tutti.